A Napoli e in Campania è una resistenza quotidiana, però è una resistenza che va fatta col sorriso, con la gioia, con la voglia di cambiare, di creare comunità in cui si mette al centro la persona con i suoi sentimenti, non il rancore ma l'amore, la solidarietà e la giustizia e non la violenza, mettere al centro anche la cura del proprio territorio e con questa resistenza si può produrre anche lavoro ed economia reale, quindi un modello di sviluppo in cui la psicoterapia, i psicologi hanno un ruolo fondamentale perché devono far venire fuori il meglio dallo spirito e dal cuore e dal corpo delle persone. Le relazioni, la cooperazione istituzionale, devo dire in questi anni di amministrazione il livello di cooperazione con l'ordine è stato eccellente in tutti i campi, da quelli delle sofferenze e le fragilità, quindi il sociale, le scuole, anche i più piccoli, i detenuti, ma anche i cittadini, anche le persone che sono smarrite, le persone che non ritrovano punti di riferimento. È un lavoro di legami sociali che torna utile, molto utile anche ai legami familiari. Grazie.